Quando tu ami una persona, tu vuoi solo che quella persona stia bene e sia felice. Non te ne importa niente di quello che vuoi per te stessa. Mi sono presentato. È possibile, per una donna. Si guardi se Vittorio lascia il suo lavoro per una ragazza. No, non per una ragazza. Grazie. Grazie. Per amore. Perché continuate a fare del male voi stessi o gli altri, Pietro? Perché? Sei il numero uno. Veramente per qualcuno sarò sempre il numero due. E spero che un giorno potrei perdonarmi. Sembra una canzone carina. Lascia stare, è una canzone stupida. Non ho molto valido di parlare. Non dobbiamo parlare per forza. Teresa, io sono come mio padre. È meglio stare lontano di accettare noi. Gli uomini da cui bisogna stare alla larga sono quelli che non ammettono mai di aver sbagliato. Vittorio! E tu non sei come loro. Ancora non sono riuscita a dirle cosa provo per lei. E poi, sento che Teresa aspetta solo che qualcuno la ami davvero. Tu mi vuoi insegnare, Vittorio. Ma io disegno solo per divertirmi. Teresa, tu devi smetterla di vederti solo come una commessa. Io sono sicuro che là dentro c'è qualcos'altro. Ne sono certo. Perché fai questo? Perché questo disegno non significa niente. E lei dice solo un sacco di fessenti. Mi mancano le tue risate, le nostre chiacchierate, il tempo che passavamo insieme. Il problema, Teresa, è che Pietro pretende sempre ad avere il controllo su tutti. Perfino sulla vita degli altri. Sai che penso, Vittorio, invece? Che il fatto che voi che vi siate incontrati è la cosa più bella che poteva capitare entrambi. Sai, a volte mi sono firmato a pensare a cosa saremmo potuti essere. Io e te. Buona serata, ragazza del sole. Sei ancora innamorato di Teresa? No! Grazie a tutti